un figlio chiese al padre cosa lo avesse fatto innamorare di sua madre lui era ancora un uomo affascinante capelli brizzolati un corpo atletico ed elegante un viso senza rughe quasi non sembrasse avere i suoi anni i suoi occhi si addolcirono pensò per un momento cosa sarebbe adesso se non avesse avuto lei erano ragazzi il primo incontro fu timido e impacciato ma già da allora capì che si era innamorato non passo molto che nulla più contava voleva lei e nessun'altra per gli altri non era niente di particolare ma a lui gli aveva preso il cuore senza di lei non poteva respirare allora rispose al figlio tutto figlio mio mi piace tutto anche quando si arrabbia anche se la vedo stanca quando mi si avvicina col suo fare delicato dolce innamorato ancora mi fa emozionare è qualcosa che non si può spiegare va oltre a ciò che si può immaginare la donna era in un angolo e ascoltava col cuore gonfio dall'emozione quello fu il momento più bello della sua vita sapere quanto lui l'amasse ancora è la cosa che ogni donna vorrebbe sentirsi dire c'era la sua vita sapere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti